Il tema del colore è un tema importante per il design in generale. Abbiamo pensato a rinnovare, anzi a inventare un sistema di colore per tutta la produzione d'ordine. Il primo pensiero è stato quello di individuare 16 colori che potessero in qualche modo ritrovare l'immagine e ricordare qual è il trend oggi contemporaneo, non solo in Europa e in Italia ma per tutto il mondo. Ormai parliamo di un gusto globalizzato. I colori di moda oggi possono essere rivisti ed essere portati nelle case e quindi il pensiero è stato quello di inventare anche delle possibilità di interazione tra l'ambiente e la porta. La porta ovviamente come elemento d'arredo interno. Uno degli elementi principali perché è uno degli elementi che arriva prima nell'arredare la casa e quindi diventa in qualche modo promotore di un indirizzo di colori. I colori oltretutto arrivano anche su un altro punto di vista che è quello del bicolore. Abbiamo pensato a delle porte che sono delle porte che portano una nuova idea che è quella di una laccatura bicolore. Tecnicamente difficile, ormai risolta sotto un certo aspetto dal punto di vista tecnico, il bicolore ci permette di affrontare delle nuance assolutamente contemporanee su dei colori che hanno un fondo di grigio. Questo è il pensiero che oggi abbiamo portato per far diventare Dorian trendsetter anche sul tema dei colori.